Ciao ragazzi e benvenuti in questo settimo Nerd Place, c'è posta per nerd. Mi scuso in anticipo se si dovesse sentire in sottofondo il ventilatore, ma è già diventato insostenibile registrare con questo caldo, siamo a luglio, ed è per questo che ovviamente arriva questo video con gli arrivi di sei mesi da gennaio a giugno, ma direi di iniziare prima di subito. Come sempre però vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti, tra i miei social e i link delle affiliazioni. Se volete anche voi qualcosa di quello che vedrete oggi nel video, beh, in descrizione trovate il link per arrivarci. Ovviamente per le cose ancora disponibili, magari in sei mesi c'è qualcosa che è cambiato, quindi non è più disponibile in qualche store, in tal caso lo scrivo. Ma iniziamo con i Funko Pop, rigorosamente a tema MC1, con almeno uno, due, massimo tre personaggi da un film o una serie, aspetto infatti di prendere quelli di Secret Invasion, che ancora non sono stati svelati mi pare, forse solo uno, ma vediamoli in ordine cronologico del prodotto da cui sono tratti. Iniziando con i due Spider-Man da No Way Home, quindi Tobey Maguire ed Andrew Garfield. Li ho presi entrambi perché comunque bisognava prenderli entrambi, dato che comunque di No Way Home, nonostante il film non mi piaccia poi così tanto, ho diversi pop, Spider-Man è comunque il mio personaggio preferito, e nonostante Andrew Garfield non faccia parte dei miei Spider-Man preferiti, dovevo per forza prenderlo perché non si può stare senza tutti e tre, visto il film. Avevo già lo Spider-Man di Tom Holland da No Way Home. Questi pop, ma anche tutti gli altri che vedrete oggi, li ho presi dal Fantasia Store, infatti collaboro anche con questo sito. In descrizione trovate il link per comprare i pop che vedete oggi, o comunque ci sono tantissime altre cose, giochi in scatola, carte collezionabili e tanto altro. E se volete supportare il mio lavoro c'è anche il codice ANDRI5, che vi permetterà di avere il 5% di sconto su tutti i prodotti del sito non già scontati in anticipo. Vi invito a dare un'occhiata al sito perché c'è un catalogo davvero vastissimo. Da film Marvel, che non mi è piaciuto così tanto, passiamo a una serie Marvel che invece non mi è piaciuta quasi per niente, ovvero Moon Knight, con Mr. Knight. Avevo già il pop di Moon Knight, quindi dovevo fare per forza le due personalità. La terza non l'abbiamo mai vista, non c'è un pop del personaggio, non credo nemmeno che la prenderò perché è un espediente che hanno usato nella serie in modo terribile e non voglio ricordarlo. Però questo pop esteticamente mi piaceva, come anche quello di Moon Knight, infatti esteticamente i due costumi sono perfetti, la serie fa caga. E indovinate un po', un'altra serie che fa caga, ma per il mio problema mentale del collezionismo e del completismo, almeno un pop dovevo prenderlo, in realtà ne ho due a questo punto, Shulk, esclusiva Amazon. Questo non l'ho preso sul Fantasia Store perché non c'era quando l'ho ordinato su Amazon, ma ora se non sbaglio lo trovate in qualche modo. Arrivando da Amazon è arrivato distrutto questa parte, cosa che nel Fantasia Store non succede perché l'imballaggio è perfetto, quindi il mio consiglio oltre alla collaborazione è andate sul Fantasia Store. Però se volete questa Shulk, e non credo in realtà, sul sito non ce l'hanno Glows in the Dark, se non sbaglio. Poi Funko Pop da Black Panther Wakanda Forever con Shuri. Vorrei tantissimo il costume da Black Panther, ma ancora non l'ho trovato a un prezzo ragionevole. Su Amazon dice che deve uscire il 20 dicembre 2024 e mi sembra abbastanza strano, quindi magari aspetterò qualche mese e poi lo ordino. Per ora mi sono portato avanti con Shuri e poi lì ci sono già Namor e Ironheart, che ho già fatto vedere nell'altro Nerd Place. D'ora in poi tutti dal Fantasia Store. Iniziamo con Ant-Man and the Wasp con The Wasp e Kang. Non ho trovato quello di Ant-Man, adesso che penso sia disponibile, era andato subito sold out e quindi ho iniziato dalla co-protagonista, che non ha fatto assolutamente niente nel film, e dal Villain. E infine dal bellissimo Guardiani della Galassia Vol. 3, che non vedo l'ora di rivedere su Disney+, Groot e Rocket con i loro nuovi costumi, entrambi veramente troppo troppo belli, ma anche Drax e Adam Warlock. Adam Warlock è un personaggio che avrei preferito venisse trattato in modo diverso, ma Drax assolutamente mi è piaciuto in questo film, come del resto anche in tutto l'MCU. Non parliamo di Rocket, ovviamente protagonista indiscusso di questo terzo capitolo ed è perfetto. Dopo i pop direi assolutamente di passare agli arrivi da Pampling, non solo t-shirt questa volta, ma iniziamo comunque da queste. Iniziamo da questa t-shirt giallina con scritto Ramen Addicted, ma la cosa interessante è quello che ci sta dietro, infatti io non vedo l'ora che mettano altre t-shirt con design stampati dietro, veramente veramente carina, e questa è la t-shirt che tra l'altro ho utilizzato all'esame di maturità l'orale, per fare vedere naturalmente il design dietro a quelli che stavano ad ascoltarmi. Questa t-shirt, ma anche tutti gli altri prodotti che vedrete oggi, li trovate sul sito, e se al momento del pagamento inserirete il codice il Pensiero 4 avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello e queste calze vi costeranno 0€, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Tra l'altro in questo periodo ci sono gli sconti estivi, quindi t-shirt a 9,90€. Andando avanti questa t-shirt con Alberto Angela come protettore della divulgazione, veramente veramente bella e simpatica, avrei potuto mettere questa t-shirt all'esame nella prima prova scritta, ma effettivamente non potevo sapere che una delle tracce sarebbe stata su Piero Angela, che è appunto il padre. Andando avanti, t-shirt a tema The Last of Us, il The Last of Us seriale però. Ho adorato questa serie, è veramente ben fatta, c'è solo qualcosina che magari non mi ha convinto, ma perlopiù la reputo molto molto bella, e naturalmente una t-shirt bisognava prenderla. Ultima t-shirt e poi passiamo ai quaderni, sempre da Pampling, perché sì, ho preso anche dei quaderni, questa t-shirt bianca con la grande onda di Kanagawa inscritta in un giradischi, in un vinile. E raga, quanto è figa sta maglietta. Iniziamo da questo giallo a tema Stranger Things, che si vede è un po' sporco, perché è vissuto e l'ho da tanto tempo e lo uso praticamente ogni giorno per disegnare, visto che le pagine sono completamente bianche. E magari vi faccio vedere qualche disegno così, sa saltare. Questo non so cosa sia, questo è Batman. Ecco, un clicker, visto che abbiamo parlato di The Last of Us. E ultimo, ma non meno importante, al momento, se lo trovo, vabbè, gli ultimi due, live action di Saetame Queen, con Owen Wilson naturalmente il doppiatore, e John Goodman che in live action presenta Sullivan di Monster Inc. Come detto, questo lo uso per disegnare, anche questo lo userò per disegnare appena finirà quello, a tema Back to the Future, essendo blu spero si sporchi un po' meno di quello giallo, ma non l'ho ancora usato, quindi non posso sapere. Sempre bianco, e sfortunatamente questi sono gli unici disegni di Pampling veramente carini, con pagine bianche, non so per quale motivo gli altri siano tutti a righe, non c'è la scelta appunto di bianco o a righe, perché per esempio anche questo avrei preferito averlo per disegnare invece a righe, e l'ho usato per i collegamenti all'esame, studiare un po'. In realtà sono finite qui le pagine, ho usato solo le prime 5, 6, 7 pagine, e poi ancora tutto bianco. Varrà per il test d'ingresso all'Accademia. Non spostiamoci di tanto, infatti passiamo a libri e fumetti con l'ABC del linguaggio cinematografico, che uso un po' per studiare e ripassare roba. Tra l'altro all'interno c'è un segnalibro di Breaking Bad. È comunque interessante, non ho ancora finito di leggerlo, perché per ora mi sto appunto preparando per altre cose. L'ho preso su Amazon, i link comunque sono tutti nella descrizione come qualsiasi cosa. Ho preso poi i numeri 8, 10 e 11 di Chainsaw Man. Il 9 l'ho saltato perché sostanzialmente mi ero dimenticato di non aver preso l'8, e avevo già preso il 9 mesi fa con l'altro Nerd Place. Sinceramente sono ancora al volume 5, non so quando lo continuerò, per ora sono stato molto impegnato, però credo di finirla. Anche perché in realtà, se non sbaglio, è già iniziata la seconda stagione, la seconda parte, quindi il 12, il 13, non so. Non sono ancora così tanto a Vetsui Manga, sto provando a iniziare e ho anche iniziato con i due numeri della miniserie su Deadpool Samurai. Non è chissà che grandissima storia, però ci sta per i riferimenti che non colgo al 100% perché per lo più sono riferimenti a manga e anime, cosa che appunto non seguo, non guardo, non leggo, però i riferimenti Marvel più o meno li capisco. C'è qualche battutina interessante, ma non è una grandissima storia. Parlando sempre di Marvel, l'ultimo fumetto di questo Nerd Place, La Fortuna dei Parker, Must Have. Sto cercando di recuperare la maggior parte delle storie a fumetti, appunto dei Must Have, per avere un'infarinatura più importante dall'universo fumettistico della Marvel. Se mi seguite saprete che io non sono un grandissimo lettore di fumetti in generale, conosco magari qualche storia importante, ma su quelle più secondarie, ma comunque importanti, sto cercando di informarmi tramite i Must Have. Mi piacciono tantissimo i fumetti La Storia della Mia Vita, La Storia della Nostra Vita, come quello di Spider-Man, di J. Jonah Jameson e di I Fantastici Quattro. Questo ancora non l'ho nemmeno aperto, ma credo di leggerlo al più presto. Per ora, ripeto, sono stato molto impegnato e penso possiate capire il perché. Adesso però passiamo ai poster, ce ne sono tantissimi, perché per quasi tutti i film che ho visto in sala ho preso anche il poster. Iniziando da quello di The Flash, film che a questo punto posso considerare un mio guilty pleasure, visto che ci sono tantissimi problemi, però continuo a piacermi. Essendo di queste dimensioni l'ho potuto tranquillamente mettere in una cornice, quindi, ok, gli altri invece in altri modi. Poster di Fast X, che metto così per non far rispecchiare la luce, ok, forse anche così, però un po' storto. Di questo film, come anche per The Flash, trovate la recensione sul canale. Poster di Spider-Man Across the Spider-Verse, questo è il miglior film dell'anno per quanto mi riguarda, e trovate anche la recensione sul canale. Guardiani della Galassia, volume 3, è stessa situazione, uno dei migliori film dell'anno, trovate la recensione sul canale. E ultimo preso, ma non ultimo che vi farò vedere oggi, Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Passando poi a dei poster che non tengo appesi per il momento, poi faccio un po' a cambio, però al momento sono arrotolati da un'altra parte. Scream 6, John Wick 4, Ant-Man and the Wasp, Quentumania, e Super Mario Bros. il film. Questi sono tutti i poster presi in questi sei mesi. Prima di passare all'ultima categoria di questo video, quindi Blu-ray, DVD e 4K, piccola cagatina così presa su Temu, questi due pezzi di Lego, non Lego ufficiale ovviamente, che stanno così. Aspetta, oh, non stanno più così, però ci stanno, giuro, se non sulla mia mano, stanno in levitazione continua. Ed è, wow, in questo momento non è nemmeno a fuoco, però ci provo. Non c'è trucco, non c'è inganno, e questo cosa sta per fare danno, ecco. Ma passiamo ai film e alle serie che ho comprato in home video, per ora quelli che ho comprato su Amazon, poi quelli che mi hanno inviato. Iniziando con il Blu-ray di Sonic, l'ho preso semplicemente perché costava 3 euro su Amazon, quindi mi sono affrettato perché comunque mi mancava. Collezione doppia di Ten Cloverfield Lane e di Cloverfield. Fortunatamente non c'è Cloverfield Paradox, che reputo il peggiore, però tutto sommato questo è il migliore, naturalmente, ma questo non è neanche male, soprattutto per la presenza di John Goodman. Ho preso poi la trilogia di Nolan su Batman, che mi mancava in Blu-ray, e con questi posso dire finalmente ufficialmente di avere tutti i film di Batman, di qualsiasi Batman in Blu-ray, in 4K anche. E poi infine tre film totalmente diversi l'uno dall'altro, che ho preso con un'offerta 3 Blu-ray a 15 euro, sempre su Amazon, ogni tanto ci sono queste offerte interessanti, quindi un Blu-ray viene a costare 5 euro. Il primo Terminator, Doctor Sleep sequel di Shining, e Creed 2. Adesso però passiamo a Warner, che mi ha inviato qualche DVD, qualche steelbook e qualche Blu-ray 4K, iniziando con l'unico DVD, ovvero Magic Mike Last Dance, che non ho visto, non ho visto nemmeno gli altri film, non so se li guarderò, però dato che ce l'ho, gli do una possibilità, visto che a quanto pare non ne so tantissimo, ma oltre ad essere un film un po' così, dovrebbe essere un film comico, forse, non lo so, fatemi sapere con un commento qui sotto, essendoci Channing Tatum, mi dà un po' questa impressione, però mi mancano anche gli altri film, quindi prima in teoria dovrei recuperare, gli altri, dovrei anche recuperare Game of Thrones, infatti Warner mi ha inviato il Blu-ray 4K, di House of the Dragon, la serie sequel, sequel o prequel comunque, una serie spin-off di Game of Thrones, poi mi hanno inviato la steelbook 4K, più Blu-ray di Black Adam, per il centenario di Warner Bros, è arrivata anche una steelbook, di Nick Manofredda, non ho mai visto questo film, ma penso che lo recupererò, e infine, ma non in ordine di importanza, abbiamo la steelbook, più Blu-ray di Rocky 2, e il 4K, più Blu-ray di Creed 3. Ora con gli home video, mi manca solamente Creed 1, che per ora si trova a 12 euro, e forse un pochino troppo, visto che Creed 2 l'ho preso a 5 euro, aspetto che ci sia una, un'offerta migliore. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto, quali di questi gadget avete già, quali vorreste avere, in caso vi ricordo che in descrizione, ci sono tutti i link importanti, per questi gadget, questi Blu-ray, queste t-shirt pampling, questi Funko Pop, tutto, tranne possibilmente questo, questo, questo robo, perché non saprei, come, come trovarlo, oltre che Temu, Temu di non trovarlo, e niente, sempre in descrizione, ci sono i link dei miei social, tra Instagram, TikTok, Twitter, Letterboxd, poi ci sono i link di, oltre Amazon, anche Pampling, il Fantasia Store, con rispettivi codici, il pensiero 4, per un paio di calze gratis, ha scelta su Pampling, e Andri5, per il 5% di sconto, sul Fantasia Store, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero, per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!